e voteranno nella prossima gara la prima serie Stefano Nicetto Cittadella in uno Lorenzo Menegaldo Idros in due Federico Barbieri Mola Nuoto in tre Edoardo Canova Padova Nuoto in quattro Davide Zeffin Tim Veneto in cinque Pietro Scandola Bentegodi in sei in sette Matteo Campodellorto Nottoli Nuoto ricordiamo che al termine dei cinquanta farfalla avremo tutte le premiazioni dai cinquanta rana femminili ai cento rana maschili ai cento farfalla femminili e poi cinquanta farfalla maschili e intanto ventinove e settantasei per Calcagni Alline Grazie.